Poi, come Dio, consacrò il Spirito Santo e la potenza genuinale, il quale passiamo in vita e risaranno tutti i concorrenti che stavano sotto il potere dei fiammi, perché Dio era con Dio. E noi siamo testimoni tutte le cose da cui condizioni nella regione di Dio Dei e di Dio Dei. E il Signor Dizio, a cui vengono alla voce, ma Dio l'ha visitato a mezzo di Dio, e dove che si manifestasse, non ha sito il cuore, ma presto, conoscente e a Dio, a Dio, che abbiamo mangiato e vivuto con lui dopo la sua disposizione della morte. E c'è l'ultimo di appoggiare al popolo e di testimoniare che evitere il pubblico dei figli e dei fiammi, tutti i concorrenti. Grazie. Grazie a tutti.